Ecco, ci vediamo tanti ragazzi al lavoro, al Pallaio di Salleo, purtroppo colpito in più occasioni dai vandali, una nuova vita per quest'area. Come nasce questo progetto e soprattutto perché? Allora, il progetto nasce da lontano. Noi ci si espone oggi perché diciamo ci sono le carte che ce lo permettono di fare, ma è da gennaio che siamo dietro a questa cosa. Sostanzialmente ci è stato chiesto se si riusciva a tirare su un gruppo giovani che insieme alle persone che l'avevano aperto come Beppe tanti anni fa, si riusciva a ridare vita a un posto che dovrebbe essere un posto di aggregazione e negli ultimi tempi era diventato un posto che non era bello vedere in quel modo lì. Si punta a riaprire prima della festa di Salleo? Noi l'obiettivo è di riaprire, cioè la riapertura ufficiale è il primo giugno per la festa di Salleo, quindi quello è il nostro obiettivo. Il comune ci ha dato carta bianca per iniziare ad Anna Sistemata, verrà il comune che ci aiuterà a sistemare i vari danni che sono stati fatti e quindi noi per il primo giugno per la festa ci siamo. Perché dei ragazzi si mettono al servizio di un paese? No, vabbè giustamente siamo nati qui a Salleo, siamo tutti di Salleo, si voleva cercare di ritirare su il tutto. Cosa sperate di venti questo posto? Ma un ritrovo per tutti i ragazzi anche la sera che non hanno niente a che fare, vengono qui, si ritrova tutti insieme e vediamo un po' se si diverte, si sta tutti insieme. Era insomma importante per questo paese? Sì, 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 anche perché ultimamente c'era un po' di degrado qui. Che emozione è invece per lei rivedere e vivere questo posto? Io spero che riprenda bene come dovrebbe. Noi abbiamo iniziato più o meno nel 2007 con un pallaio in terra, tutti vecchietti, allora eravamo un po' meno vecchietti, adesso un po' più. Proprio per questo poi piano piano abbiamo lasciato. Comunque tutto questo è stato fatto, il pallaio dal comune, alcune cose un po' da noi, anche senza molte regole. Comunque, niente, adesso speriamo che con questa nuova gestione, abbiamo provato già un'altra volta con dei ragazzi diversi, non è andata molto bene. Spero che questa volta vada bene. Siamo rimasti io e un'altra persona nel consiglio proprio per dare un po' una continuità, perché ci sarà, spero, qualche vecchietto che continuerà a venire, quindi se vedono anche noi, se no non vengono con il loro giovane. Questa si tratta di una proprietà comunale, verrà concesso a questa associazione? Sì, siamo agli sgoccioli, gli uffici stanno facendo il loro dovere, stanno verificando la documentazione, dopodiché sarà posta l'attenzione della giunta dopo il bando che era andato deserto, perché l'associazione si è costituita dopo che è venuta a conoscenza di questa possibilità. E quindi contiamo, come già detto dai ragazzi, di rendere tutto disponibile entro il primo giugno. Li ringrazio perché questa è un'attività civica, sociale, è un esempio per la cittadinanza, è un esempio anche per i tanti che giustamente si lamentano delle varie attività che il comune magari non riesce a fare in prima persona e come vorrebbero tanti cittadini. Però ogni tanto bisogna rimboccarsi anche le maniche, loro l'hanno fatto, sono un esempio e oggi sono qui a dargli una mano. Grazie.